secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie ha fatto gas ha messo il video ha messo il video ma è felice gilbert che gli diamo dare il piatto buono questa io non voglio un ragazzo che molle voglio i ragazzi che seguono i loro sogni che da tutto ogni giorno può realizzare i suoi sogni capito però ti voglio bene vi aspetta tutti su instagram adesso e se no mi incazzo nero perché quando mi incazzo nero diventa un casino va bene ragazzi perché la gente come noi non molla mai gilbert e nana 11 su instagram vi aspetta tutti i miei figli sono in calabria loro non sanno quello fratello nessuno non mi ha difeso ti giuro su dio anche la gente che era lì che mi conoscevo nessuno non mi ha difeso ma loro mi sono ritrovato con quasi 20 persone io le colpe volevo di tutte le parti loro volevano buttare per terra ma loro non riuscivano a buttare perché io ho preso quello là qui così dicono il mio preferito è Grimbao il Nasca è una merda cioè letteralmente qua è figa mi sono beccato l'abuso allora io cosa mi sto beccando sì vabbè ma gioia di due è normale ciao 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 vi faccio una come sei poco a fuoco ah mi spiace mettila ma fai così con la mano e toglila ok come quelli del video avvicinati con la faccia ah mi chiede così ci ascriveria meglio meglio però così meglio però non ti preoccupare ma benissimo capiamo ora mi faccio una gaffa televisiva vai è una cazzata vabbè allora Enrico Babi ma dai non l'hai neanche fatta 47esimo a Napoli eh eh Ludovica Pagani avanti te lo giuro te lo garantisco ho visto anche le tue precedenti storie con i gas ti giuro si io sento un gas io sento un gas Fede spendi like se io senti un gas che culo lascia il gas qui ve lo giuro ma stiamo mangiando Gilbert non lo faremmo mai ok scusa ci sei sentito questa cosa non sei stato tu no io non fai gas vabbè dai Gilbert vuoi dimmi che non scorreggi dai spero che tua madre faccia una una di quelle famma mia guarda pensavo di far la fine di mio nonno per un attimo uguale tale quale mio nonno mi ritrovo con lui in paradiso l'inferno perché lui è un personaggio che fa le cose con passione molto molto se ti vede nel quello che lui fai c'è molto più passione nel quello che lui fai capito gli esprime altre cose che dei ragazzi che guardano deve capire tante cose state facendo cose strane no stiamo facendo i cazzi nostri a casa nostra oh coglione di merda scendi a sta roba io 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 oh scendi a sta roba chi è? ripeti di pazzate sto scemo scendi frate lascialo stare sto coglione che cazzo è il prego ma chi è che sta parlando? ancora questo ancora questo cazzo ma te ne vuoi andare? ma cazzo di cazzo oh hai rotto la minchia pagliaccio di merda pagliaccio di merda la minchia scendi bravo scappa la coglione la grancia hanno un po' troppo messe secondo me possiamo far risaltare tutta la base la gente come noi non molla mai 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 rispetto a te i miei documenti escono le volte sono triste voglio dire la verità e non possiamo mollare perché la tristezza non ci apporta niente non devi cercare sempre di superare la tristezza perché o sei triste o non sei triste non ti cambia niente capito ragazzi? perché la gente come noi non molla mai va bene bro? ok se tu chi vuoi la videomotivazione scrivami su instagram no no io sto male ti piacciono i maschi? no 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 femmine bravo ma senza me rompere coglione perché lui mi dice che poi non mi piace cioè deve rispettare comunque bravo noi rispettiamo i suoi gusti lui rispetti non è successo niente arriva dicimila sub ah dicimila ciao grazie ragazzi grazie mille grazie infatti io gli ho scritto ma Nuxo fai qualcosa Cristo Dio cioè fai un discorsino dicimila sub sono importanti e lì mi chiamano ma l'ha fatto un bellissimo discorso mi è piaciuto veramente tanto quasi mi sono commosso attualmente un bel discorso e niente in bocca al lupo Mannuxo spero le perdi tutte una per una grazie Etto grazie Xfete grazie Antonio Bisesto grazie 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 da cosa inizio Chef dei due? dalla focaccia questa quindi questa nera no Greenball fai prima deve sempre ringraziare Dio che cazzo fai che cazzo fai io santo e poi quello che non si è andata a Saremo bro che cazzo fai niente che cazzo ha fatto niente no 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 è la macchina che cazzo ha fatto che puzza però è la macchina Gilbert te lo giuro su mia madre è la macchina guarda sicuro? no no non sono io non sono io Gilbert è la macchina guarda capito è stato rotto questo dito ma tu hai minato anche tu no non è minato niente io con la mia forza che avevo io potevo prendere uno così e a due minuti se io prende uno così in due minuti lo gli hai strangato l'ho già ammazzato perché non sapevo nemmeno perché loro mi picchiavo perché io lavoravo io lavoravo qui vicino in un villaggio in questo villaggio aveva uno spiaggia oh ma scusa però sei l'Ancona sei un mito che hai anche il coraggio di dirlo qua davanti a tutti e tu lo stavi cacciando zio no ma che ma lui forse dimmi sei l'Ancona no 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 sono toscano ah ma che cazzo non ho mai sentito un toscano del genere vabbè comunque grazie bro grazie per tutto fede una domanda salvando si puoi va bene ok ok grazie dello scam ciao non la voglio mai più in una mia live in vita mia per me anche è morta per me cocash è morta per me cocash è morta come streamer come streamer come persona come amica come essere umano per me non esiste più grazie Sofì grazie mille per i cinque mesi grazie mille come due a una talatta io sono un uomo di principio e di genità e di orgoglio ok non orgoglio che mi sento no perché io sono nato nelle principi ok capito io non andrò mai con un uomo perché voglio diventare ricco o perché voglio fare questo no 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 però se ti risolve la tua famiglia no 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 non perdeva mai non perdeva mai questa dignità perché se io vado che mia nonna fa rosario ogni piatto ha fatto gaso eh ha fatto gaso gaso fregia no come no alzati 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 una sezione di commenti sana bellissimo che bello un miracolo grazie mille vabbè oh basta stai messo